Ciao, sono Rebecca Skleaning e ti aiuto a conoscere e a usare al meglio i tuoi panni Maplanet. Oggi voglio spiegarti cosa fare quando ricevi il tuo set pavimento se hai un pavimento pacco strutturato. Quindi in questo caso hai acquistato insieme a Mop Dust anche il Mop Universal. Ovviamente se non ti iscrivi subito al mio canale non te lo dico. Nel pacco troverai questi due panni, quindi uno da usare asciutto e bagnato, troverai il loro sapone per lavarli correttamente a fine utilizzo, troverai il manico telescopico e la base della nostra scopa professionale. Troverai anche un sacchettino con un pochino di saponi scaglie. Questa sarà la prima cosa che puoi fare. Una volta aver aperto i tuoi ciali due Mop ti accorgerai che entrambi i Mop sono a pelo lungo. Vuol dire che quando li utilizzerai le prime volte potrebbe essere che ti lasciano un pochettino qualche pelucchietto di elaborazione. Quindi cosa fare? Li butti in lavatrice, prendi il sacchettino di scaglie che ti ho dato, lo apri, lo rovesci nel cestello insieme ai Mop e se hai nell'altro bucato, per esempio lenzuola, asciugamani oppure se hai qualsiasi tipo di bucato, una lavatrice qualsiasi che devi fare, riempi pure la lavatrice. Perché? Perché questa dose di scaglie è la dose con cui puoi tranquillamente fare una lavatrice. Fai un bel lavaggio a 40 gradi con centrifuga 800. Sulla confezione dei panni c'è scritto di non centrifugare. Questo perché? Perché siamo poi noi consulenti che vi diamo da vicino delle indicazioni su come e quando farlo. Ad esempio, buttando i panni magari con una centrifuga a 1200 tutte le settimane, a lungo andare è chiaro che il panno non si rovina. Però con una centrifuga moderata, 600, 700, massimo 800 giri, i vostri panni non si rovineranno assolutamente. Sia il Dust che l'Universal usciranno dalla lavatrice che sono abbastanza asciutti. Una volta tolti dal cestello, fate questo gesto qui, una bella sbattuta al panno. Sia di qua che di là. Sia il Dust che l'Universal. Questo scontrirà a far sì che i panni si liberino dalle goccioline d'acqua, che qualche altro pelucchietto di lavorazione vada perso e di conseguenza i vostri due panni saranno pronti per l'utilizzo. Io personalmente li stendo sullo stendino così, cioè col pelo rivolto all'insù, in modo che prendano più aria. Ora ti faccio vedere la differenza tra un Dust nuovo e un Dust usato. Questo è un Dust nuovo, questo è un Dust usato. Si vede, a parte il colore, che chiaramente non c'era mai più giallo candido, però si vede proprio la differenza dell'apertura delle fibre. Dust nuovo, Dust usato. Vedi, le fibre nel Dust usato sono decisamente più aperte rispetto al nuovo. Quando il tuo Dust diventerà così, sarà il massimo della sua, diciamo, efficacia. Un'altra cosa di cui non devi preoccuparti è se, dopo un po' di utilizzi, l'Universal diventa un po' più duro. Se al tatto senti il pelo un pochino più duro, è tutto normale. L'Universal ha anche dei filamenti di cotone, che si tirano molto dietro i residui di prodotto. E non hai proprio sciappato benissimo qualche residuo di sapone. Quindi se il tuo Universal si indurisce un pochettino, non ti preoccupare, non farci caso, non succede niente. È giunto il momento di montare la scopa professionale. Allunghiamo il manico. Il manico è molto semplice da usare. Basta girare questa manopolina qua e allungarlo. Questo si allunga fino a 2,15 m. Quindi ci permette di fare anche le pulizie aeree, quindi spolverare anche in alto o lavare, diciamo, le pareti lavabili anche in alto. Io ti consiglio sempre di allungarla, almeno così. Poi stringi la manopolina e il manico è a posto. Poi sulla base, svitiamo un po' la ghiera, troverai questo fermo a mezzaluna. Questo è da estrarre. Poi non dovrei far altro che far combaciare i due buchini, il buchino che c'è sulla base e il buchino che c'è sul manico. In questo modo. Stringiamo la ghiera e la struttura è montata. Questa è un'altra cosa importante della struttura, questo tastino rosso che vedi qua in fondo. Tirando il tastino rosso in giù, la base si blocca e ruota solamente avanti e indietro. Usala così quando devi pulire in alto. In questo modo la struttura non andrà da tutte le parti. Tirando il tastino rosso in su, la testa ricomincia a ruotare a 360 gradi. Usala così quando devi pulire per terra. Un'altra cosa importante è che il manico deve essere come minimo all'altezza della tua testa, se non leggermente più in alto, in base a come sei più comoda. Questo ti obbligherà a pulire quella schiena dritta e a farti molto meno male, a faticarti di meno. Come montare il panno? Insomma le due forme devono combaciare. Poi clicca forte sul tastino blu open, tieni il panno fermo nell'angolino con il piede sinistro e poi vai a inserire il panno in questa maniera qui. Spingi su close e il panno è montato. Quando devi smontarlo stessa cosa, clicchi su open e poi te lo tiri su e lo sfili con le mani. Il dust puoi usarlo un po' come ti pare. È la tua aspirapolvere, il tuo sostituto allo swiffer, è la tua lucidatrice, è il tuo straccio di lana della nonna di un tempo, il tuo panno per la pulizia giornaliera. Il dust è veramente un passepartout che puoi utilizzare in un sacco di situazioni. Hai fretta e non hai tempo di lavare per terra, il dust ti fa la prima pulizia. Ad esempio hai tanti alone sul pavimento, quando il pavimento è ancora umido puoi utilizzare il dust in maniera un pochino più importante per andare proprio ad aiutarti a smuovere questi prodotti. Hai anche delle briciole, puoi anche raccoglierle in un angolino e poi successivamente le aspiri, quindi puoi usare il dust come una scopa. Insomma, questo è un panno indispensabile e indistruttibile. Il dust non ha bisogno di essere lavato ogni volta, ma puoi o aspirarlo in questo modo, oppure se hai modo di sbatterlo all'esterno, lo sbatti. Poi lo lavi in lavatrice solamente ogni tanto. Se non hai lo strizzamop, questo è il metodo ideale per utilizzare il tuo sistema pavimenti. Immergi il panno dentro ad un lavandino normalissimo oppure dentro ad un normale secchio. Una volta che l'acqua avrà raggiunto tutti i punti del panno, lo strizzi semplicemente a mano. Se hai un pavimento molto poroso, non esagerare nella strizzatura, ma lascia il panno piuttosto bagnato. Se invece hai un pavimento liscio, puoi strizzare il panno in questa maniera qui e strizzandone un pezzettino per volta. In questo modo ci metterai veramente pochissimo e farai meno fatica e il risultato sarà eccezionale. Se vuoi puoi anche sbatterlo in modo che perda un altro filino d'acqua. Invece dopo averlo bagnato come abbiamo visto prima nel lavandino o in un secchio, adesso è giunto il momento di lavare. Per cui andiamo ad inserire l'universal. Iniziamo a lavare il pavimento. Anche qui ci sono diversi metodi. Hai fretta? Hai bisogno di avere una lavata veloce? Cioè, molto semplicemente, come ti viene? Ti viene. Il pavimento viene pulito, il panno ti toglie lo sporco. Vuoi insistere un po' di più su una zona? Allora, se puoi, lavora con il movimento circolare. Chiaramente, se hai delle venature, quindi hai magari una piastrella con delle venature per il lungo, cerca di seguire sempre le venature del pavimento in modo da favorire la fuoriuscita dello sporco dalle scanalature che hai. Il livello di acqua da utilizzare lo puoi decidere tu. Cosa fare quando ti accorgi che il tuo pavimento sta benendo molta acqua e il panno risulta asciutto? Puoi agire in due modi. O giri il tuo mokko, pongi un pochino d'acqua direttamente sul panno. Chiaramente il mokko non deve essere nero come il carbone o non deve essere canto dell'olio per terra perché chiaramente andiamo altrimenti a sovraccaricare la capacità del panno. Ma sul pavimento è ragionevolmente pulito se hai solo bisogno di riumedire il panno la tecnica va benissimo. Il panno avrà di nuovo abbastanza acqua per lavorare e potrai finire la tua metratura. Il secondo metodo è molto molto semplice. Quando vedi che il panno ha bisogno di essere sciacquato perché hai raccolto un sacco di sporco oppure si sta asciugando troppo puoi smontarlo, andare al lavandino una sciacquata, una ribagnata, una strizzata lo rimonti e finisci la tua pulizia. Se vuoi lavare i tuoi panni a mano basterà a fine utilizzo metterti di nuovo in un lavandino ribagnarli prendi il tuo pezzettino di sapone e vai a insaponare il mokko in questa maniera qui. Non è difficile lavare i panni i panni con il loro sapone buttano fuori lo sporco abbastanza presto. Li vai a insaponare anche dietro e anche nei bordi perché loro vanno a raccogliere sporco anche nei bordi. Puoi tappare un pochettino il lavandino con un pochino di acqua tiepida e vai a spugnare il panno. Il panno tende a buttare fuori subito lo sporco come vedi. Puoi anche lavorare in questo modo qui tenendolo per la sua taschina e stropinandolo in questa maniera qua. Poi lo sciacchi bene lo stritti lo sbatti se puoi sbatterlo all'esterno ancora meglio e ti assicuri di stenderlo in questo modo con il pelo all'aria. Il pelo deve essere ben aperto così come vedi nel video. Se lo vedi appiccicato vuol dire che non l'hai lavato bene non l'hai sbattuto bene o non l'hai sciacquato bene. Il pelo deve rimanere sempre così ben aperto. E poi lo stendi possibilmente all'aria altrimenti anche all'interno non c'è nessun tipo di problema l'importante è che sia ben aperto. Ora che hai visto come si montano come si lavano come si iniziano ad usare non mi resta altro che augurarti buon lavoro ma soprattutto segui il mio canale e non perdersi i nuovi video per essere sempre al passo con l'utilizzo di panni EMA. Ciao!